Area ex Ticosa, qualcosa si sta muovendo. Il Comune di Como si dice pronto a presentare entro un paio di mesi il progetto definitivo per la bonifica. Mi piace solo l'idea che si sia aperta una discussione. Quello che vi dico è che non ho intenzione di una discussione eterna. E quindi lasciatemi giocare a tempo debito le mie carte, ma abbiamo pronta qualche soluzione da mettere sul tavolo e da condividere. Perché non sia un esercizio a chiacchiere che vogliamo condividere. Adesso si aprirà nei prossimi giorni un tavolo con gli ordini, le categorie, per valutare alcuni input di ingresso. Intanto, noi comunque in questi mesi abbiamo lavorato per tutto quello che riguarderà lo sbanco dei terreni che sono inquinati. Sottoporremo un progetto di bonifica che non siamo stati lì ad aspettare che nascesse il sole e l'abbiamo sviluppato. Lo mettiamo sul tavolo con gli altri soggetti, l'ATS, la regione, in particolare la provincia, che ci deve dare il via libera per tutta l'area. E per quanto riguarda il futuro dell'area, il comune, dice il sindaco Mario Landricina, non è stato a guardare. L'input è, non voglio farmi trovare impreparato. Il giorno che portiamo a casa il risultato che riguarda la bonifica, poi guardiamo su e diciamo, adesso cominciamo l'altro pezzo. Io forse parlo poco, però sono abituato a parlare quando ho in mano dei pezzi di carta. I pezzi di carta ci sono. Sul parcheggio, secondo me, non si può prescindere. Le soluzioni di parcheggio, come potete immaginare, sono almeno tre. Uno sotto, uno raso e uno sopra. Il verde, il fatto che sia collegato con la via Milano e gli altri quartieri, il fatto che non porti via il canocchiale di Sant'Amboglio, il fatto che lì vada rivista alla viabilità e questo ci darà delle posizioni, delle soluzioni interessanti per qualcosa d'altro. sono già degli elementi stabili. Poi cubatura, poca, se se ne sarà bisogno.